Salutarla con un grande applauso perché è grazie a Fratelli d'Italia e grazie al Presidente del Mastro che quelle parole hanno messo spalle al muro il diritto della giustizia, quelle parole di Eine. Grazie a tutti per questa manifestazione, grazie per l'invito, non potevamo mancare, non avete bisogno delle mie parole qui oggi per sapere che Fratelli d'Italia c'è, per una causa che condivide nel merito. Non è semplicemente un problema di diritti del lavoro, è un problema di credibilità dello Stato italiano, delle sue istituzioni, della qualità, della giustizia che è in grado di dimostrare. E da sempre chi conosce la realtà sa che su di voi e sulle vostre spalle grava il 50% almeno delle sentenze, il 90% delle udienze penali monocratiche. Semplicemente non esiste il sistema della giustizia italiana senza la magistratura onoraria, senza i giudici di pace. E però una cosa è essere servitori dello Stato come voi siete, una cosa è essere considerati servi dello Stato come lo Stato pretende di considerare il vostro lavoro. E questa è la ragione per la quale Fratelli d'Italia ha operato in questi anni con diverse interrogazioni, compresa l'ultima che è una delle ragioni scatenanti di questa manifestazione del collega Del Mastro, che insomma si fa sempre sentire con chiarezza nelle aule parlamentari anche su questi temi, esattamente come voi sapete che da tempo abbiamo depositato una proposta banale, semplice, stabilizzazione per la magistratura onoraria fino alla pensione, trattamento equiparato ai magistrati togati. Una cosa semplice, non ci vuole tanto per garantire diritti di lavoro basilari, perché la domanda che era insita in tutte le interrogazioni che abbiamo fatto in questi anni, compresa quella che feci io personalmente qualche anno fa a un altro ministro, la domanda che sottintende tutte le nostre interrogazioni è sempre la stessa. Può lo Stato italiano nel 2021 non riconoscere a lavoratori, a professionalità, delle quali si avvale quotidianamente diritti basilari e fondamentali come la maternità, la malattia o le ferie. E' questa la domanda alla quale lo Stato non ha mai voluto rispondere. E quando ha risposto, come l'ultima volta ha risposto il ministro Bonafede, le cose sono andate anche peggio, perché la risposta del ministro Bonafede, che in buona sostanza ci spiega che la magistratura onoraria è al servizio di quella togata che altrimenti rischierebbe di perdere in tema di stipendio e di status, equivale a dire, a sancire nel 2021, il principio che ci sono dei servitori della gleba del diritto che servono a lavorare senza alcuna possibilità di veder riconosciuti i propri diritti per mantenere i privilegi di altri. E io credo che neanche la magistratura togata possa essere d'accordo su un principio del genere e voglio ringraziare quelli che hanno avuto il coraggio di dirlo, perché qualcuno che ha avuto il coraggio di dirlo c'è. Quindi il principio che noi vogliamo e continuiamo a batterci per affermare è che questo è uno Stato giusto, perché uno Stato che non è in grado di essere giusto con chi decide sulla giustizia, beh, ha perso in partenza. Quindi noi continuiamo a portare avanti questa battaglia. Ci sono i soldi del Recovery Fund, si deve fare la riforma della giustizia? Beh, la riforma della giustizia deve risolvere il problema della magistratura onoraria. E se non lo dovesse fare questo governo, che in ogni caso speriamo che vada a casa il prima possibile, allora lo farà il successivo, che sarà, speriamo, un governo nel quale ci saranno anche Fratelli d'Italia. Contate su di noi. Grazie. Grazie ancora, Presidente, delle parole della solidarietà.